L'influenza non sconfiggerà i nostri superpoteri da donne Sempre efficienti, sempre pronte a fatturare Nonostante la febbre Il catarro non intaccherà nemmeno la nostra vita domestica Noi donne, anche con l'influenza, siamo meglio di Wonder Woman Sì Quasi Non c'è la supposta di sta roba Ma no ma è allergia, siamo in un parco Ciao bravo Ciao Donny Ma che voce c'hai? Ma no niente, ho avuto solo un calo di voce Ma niente di che? Sempre pappalardo Vieni con me, andiamo, triato Ma che brutta tosse Da un po' di giorni che ce l'ho Cerca su Google Oddio, sto morendo Via Marco, che l'ho sempre amata Marco è il mio fidanzato Sto morendo Mi passi la coperta Il tè Le medicine Mi fai male Ma non eri senza voce Miracolo Ciao Ciao Ah sì Ho la febbre 44 Ma niente di serio Sto benissimo Anche meno eh Quest'anno l'ho presa bella forte l'influenza va 39 di febbre 42 con le placche in bocca Anche la gastrite A me hanno tolto l'appendicite Colmonite, tracheite, bronchite, seritonite Stai bene Stai bene Ma ti porto a casa Dal medico, non lo so Stai bene Io vado a lavorare Sto benissimo Benissimo Ha detto che stava bene Ciao ragazzi Se il video vi è piaciuto mettete like Iscrivetevi al nostro canale Attivate la campanella Seguiteci anche su facebook e su instagram E se vi va scrivete qui sotto a quale categoria appartenete Noi ci vediamo al prossimo video Se sopravvivo all'influenza riesco a prendere le pastiglie